Ci siamo, si aprono le gabbie, partiti, cavalli della quarta corsa è leggero controtempo proprio The Main, davanti velocemente ci va You Make Me Shiver accompagnato al suo interno da One Smart Cookie in terza posizione si sistema Gale Rupp in terza corsia Super Pierino la quinta posizione occupata da Ponchia nei confronti di Jamal, poi il debuttante I Know Why a precedere l'importato Honor Day che al suo esterno Humming Bee e a chiudere il gruppo troviamo The Main velocemente si va già a metà curva con You Make Me Shiver che ha preso posizione nei confronti di Super Pierino in terza è rimasto in quota One Smart Cookie a precedere Gale Rupp, poi ancora Ponchia, I Know Why, Jamal ed ancora Humming Bee, Honor Day e in coda a tutti c'è The Main siamo già addirittura d'arrivo con You Make Me Shiver che ha respirato ma è sempre sotto la pressione di Super Pierino in terza posizione c'è invece One Smart Cookie, intersezione delle piste superata in questo momento dall'esterno si avvicina anche il debuttante I Know Why con The Main che viene trascinato proprio da quest'ultimo i cavalli sono a 600 dal palo con You Make Me Shiver ancora davanti nei confronti di Super Pierino prova a far lo scatto The Main dall'esterno insieme allo stesso I Know Why, 4 cavalli in diagonale con You Make Me Shiver adesso sotto la pressione proprio di The Main che ci prova dal centro della pista The Main che va ad aggredire You Make Me Shiver il quale è ancora davanti You Make Me Shiver negli ultimi 100 metri accelera ulteriormente e viene a vincere facile You Make Me Shiver nei confronti di Super Pierino e per il terzo risale alla corda I Know Why Buona la seconda dunque per You Make Me Shiver figlio di Footsteps in the Sand insomma la famiglia è di quelle buone assolutamente che abbiamo imparato a conoscere Tore sulla sinsella per il training di Endo Botti Galoppo i colori sono quelli della razza latina Vince dunque bene You Make Me Shiver numero 10 dello schieramento a segno con il secondo posto per Super Pierino a rimorchio quindi 10,8 e vediamo per il terzo dal nostro punto d'osservazione c'era I Know Why che dall'interno era risalito vediamo un po' sì è così quindi numericamente 10 al primo 8 al secondo 4 al terzo è tutto per la Maiden sulla distanza del miglio la quota di You Make Me Shiver era di 1,90 in discesa netta da questa mattina è tutto grazie a tutti